Konnichiwa minasana, Yuriko Taiga desu! Ciao a tutti, sono Yuriko, in questo momento sono vestita da Yuna da Final Fantasy X sto facendo un servizio fotografico a Takahagi che sta verso il nord di Tokyo, in Giappone ma sono qua per annunciarvi una cosa molto importante il 29 maggio andrò in onda su Rai 2 in prima serata nel programma Meglio Tardi Che Mai è stato davvero divertentissimo, è una super bellissima esperienza e se avete visto il trailer su Twitter, quella padata rosa con la parrucca, sono io se volete scoprire di cosa si tratta, guardate il programma e seguitemi sui miei social ciao!